buongiorno amici e buon pranzo oggi quarto giorno di dieta sono lavoro una pausa veloce lavoro quindi non mi posso cucinare non posso preparare niente di che ho preso delle verdure al vapore una confezione di petto di pollo e un'acqua vitaminica oggi senza pane perché qui non c'è il pane integrale dove lavoro io in questo supermercato dove lavoro non ce l'hanno giudicate pure dite che troppo petto di pollo e troppa verdura giudicate giudicate non ti giudicate io magno